All'università si imparano spesso moltissime cose, ma quasi mai poi sei veramente preparato ad affrontare il mondo del lavoro. Soprattutto se sei un progettista, quindi un architetto, un ingegnere edile, anche se hai la laurea, quando esci sei completamente impreparato ad affrontare le mille pratiche edilizie e la realtà di cantiere. Fortunatamente c'è una soluzione per ovviare a questo problema. Ciao, sono già da capo di lupo, architetto, docente Autodesk e titolare del centro Autodesk ad Ararchitettura. Aiuto tutti i progettisti a posizionarsi meglio e più velocemente nel mondo del lavoro, attraverso l'apprendimento di skills fondamentali richieste oggi in questo mondo del lavoro. Dunque, nel mio centro di formazione formo ogni giorno being manager, being specialist, renderisti professionali, cardisti, disegnatori, ma voglio fare qualcosa di più, voglio dare un qualcosa in più che normalmente non fa nessuno. Sto facendo una serie di video che si chiamano Università in Cantiere e in questi video ti porto in cantiere con me. Ti faccio vedere la realtà del cantiere, ogni settimana, ogni mercoledì affrontiamo un tema diverso, anzi, se hai una lavorazione di cui vuoi essere partecipi, che vuoi visionare, non esitare a scrivermela nei commenti qui sotto e se ne ho la possibilità sarò felice di dimostrartela. Oggi voglio portarti in cantiere con me e farti vedere una cosa un po' particolare che difficilmente trovi in giro, perché è caratteristica di cantiere un pochino più grandi e soprattutto quando si tratta di edifici più alti. Parliamo infatti dei piani di carico. Eccoci qua! Allora, che cos'è un piano di carico? Intanto è rappresentato in questa immagine da questa sporgenza, se la vogliamo definire così, del ponteggio. Un piano di carico è, proprio lo dice la parola stessa, un piano dove è possibile caricare, chiaramente, delle merci, del materiale edilizio e poterlo poi riscaricare. Nel senso, quando lavori ad un edificio, non sempre hai naturalmente offerti dall'edificio dei piani di appoggio su cui puoi fare carico merci e scarico merci utilizzando ovviamente un agro di sollevamento, quindi non parliamo di cose piccole ma parliamo di carichi pesanti. Per esempio, ho degli stessi mezzi per lavorare all'interno del cantiere, delle travi in acciaio, dei blocchi di materiale che sono molto pesanti e chiaramente non possono essere portati a spalla dagli operai né tantomeno possono essere caricati su un eventuale montacarichi. Quindi parliamo di pesi più grossi e più ingombranti. Allora, se l'edificio non offre delle terrazze che possono sostenere il peso o chiaramente non offre terrazze adatte su tutti i livelli, si creano dei piani di carico appunto con il ponteggio che viene montato in facciata e questo ne è un tipico esempio. La cosa importante è che ci devono essere vari piani di carico, uno per ogni piano e che ovviamente devono essere sfalsati, cioè non possono stare, anzi nemmeno, devono stare proprio diversi, uno lontano dall'altro perché la gru ovviamente cala dall'alto il materiale e per questo non può intercettare i piani di carico intermedi nella discesa e nella salita del materiale, anche per una questione di sicurezza. Allora, questo è il cantiere su cui sto lavorando. Te ne faccio già notare due, anzi so che è un po' faticoso magari in mezzo a questo groviglio, però li puoi già notare. Allora, uno è proprio evidente, eccolo qua, carico massimo, tra l'altro c'è scritto 1000 kg e su cui già è stata caricata un primo approvvigionamento di materiale. E poi ce n'è un altro di qua. Allora, possono sembrare sulla stessa linea, in realtà se ci fai caso sono distanti, cioè praticamente in linea d'aria dove finisce uno se sali poi incontri l'altro che procede dall'altra parte. Quindi non sono in realtà sovrapposti ma sono tutti sfalzati. Ora, la gru carica, qui siamo ai piani più alti, quindi siamo verso l'ottavo nono piano in tutto, questo edificio ha nove piani, il nono diciamo è la copertura con la terrazza, perciò non abbiamo ancora necessità di avere un piano di carico in copertura. Quindi in questo caso la gru carica il materiale di qua, cioè il lato strada, carica il materiale, lo porta qua sopra e lo scende o su questo piano o su quest'altro. Ma tutti gli altri sette piani di carico, dove sono? Adesso te li faccio vedere. Quindi questo è un primo piano, questa è una passerella in cui possono passare gli operai e possono passare chiaramente con dei mezzi di toni a sole, anche con delle cariole per svuotare il materiale qui presente e poi portarselo in cantiere. Quindi il cantiere questo è un edificio a C che prosegue qui, fa qua dietro e io ero dall'altro lato a fare la foto. Quindi c'è proprio questa passerella di attraversamento che diciamo è servita dai vari piani di carico e questo è il tronco della gru. Questa è un'altra foto, si vede dall'alto il secondo piano di carico, quello più in basso, questo qui, eccolo qua. Dopodiché abbiamo un'altra foto, sempre degli stessi due piani di carico ed ecco dove sono gli altri piani di carico, degli altri piani. Allora ti faccio vedere. Qui eravamo nel lato più interno della corte dell'edificio, se diciamo camminavi di qua e ti affacciavi verso sinistra, arrivavi a vedere gli altri piani di carico, eccoli qua. Quindi ne abbiamo uno, un altro qui e un altro qui. Come puoi vedere in linea d'aria, un piano di carico sopra di sé, non deve avere chiaramente per ovvi motivi nient'altro. Quindi non ci deve essere assolutamente niente sopra il piano di carico e sotto ovviamente ci deve essere un'aria dove per qualunque motivo si rompe una tavola o qualcosa ci deve essere un'aria che fa diciamo da tutela, da raccoglitore se per qualunque motivo dovesse danneggiarsi una tavola e cadere di sotto. Ovviamente l'aria immediatamente sotto al piano di carico non è assolutamente praticabile. Allora, questa è un'altra inquadratura vista dall'alto. Qui siamo proprio alla fine, quindi in questo caso non c'è la necessità di un ulteriore piano di carico che lo vedi di qua, eccolo qui, ma essendo l'ultimo la passerella stessa diventa il piano di carico e questa è una paperella che gli operai stavano caricando di materiale di risulta dalle demolizioni e questa poi direttamente la gru se la carica e se la porta giù. Ecco qua, questa è una visione un pochino più ampia del ponteggio preso dal davanti, su cui è possibile vedere tutti i piani di carico che sono stati creati. Quindi un piano di carico, un altro sta qui, un altro sta qua sotto, ce ne dovrebbe essere un altro ancora, ah eccolo qua, 4, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quelli dietro, 7 quello all'ultimo piano e 8 direttamente il piano terra e il nono è direttamente la copertura. Su ogni piano di carico è specificato qual è la portata massima dei chili, ovviamente si cerca sempre di non raggiungerla e sono già presenti dei materiali, ci sono degli esti di legno, questi sono di rinforzi di alcune travi e qua stanno finendo di allestire il ponteggio. Sembra molto complicato visto da fuori, ma poi quando ne capisci lo schema è molto molto interessante. Io passeggiavo per il cantiere per andare a vedere lo stato di avanzamento delle opere e a un certo punto mi sono fermata, sapevo che stavano facendo dei piani di carico, ma nella fretta non mi ero mai soffermata a guardare il ponteggio come lo stavano facendo, perché ero concentrata su altre lavorazioni e fermandomi un attimo ho detto wow, è veramente bello. Un'altra foto, eccolo qua, quindi tutto segnalato, anche perché per il gruista non è semplice da sotto o da uno dei piani, se non sono segnalati notarli. Eccoli qua, li puoi vedere ancora meglio, c'è ancora qualche altra foto, eccola qui. E queste sono le due ultime foto. Questa un po' è la foto similare a quella di prima dove si vedono bene i quattro piani di carico che sono presenti sulla facciata principale e qui ci sono gli altri. Spero che questo video ti sia piaciuto. Io lo trovo molto interessante e ai tempi dell'università ma anche da neolaureata mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che mi mostrasse la realtà di cantiere. Cosa aspettarmi quando veramente poi sei sul lavoro, sei sul campo e devi lavorare. Se hai delle lavorazioni che ti piacerebbe vedere, non esitare a scrivermi nei commenti qui sotto e se ce lo sarò felice di accontentarti. Io ti aspetto invece tra i miei studenti, puoi entrare nel gruppo progettazione competitiva su cui ogni mercoledì esce un video come questo ma soprattutto ti aspetto dall'altra parte dove ci sono tutti i miei studenti che ogni giorno si formano per migliorarsi come professionisti ed imparare a fare meglio ciò che già fanno bene. Ci vediamo mercoledì prossimo, al prossimo video. Ciao!